... che è il conservatore del patrimonio e direttore dell'Università dell'Oro di Paris e che in effetti il curatore della mostra insieme a Giappella Sipio purtroppo non è presente per problemi familiari. Alla destra di Indi il dottor Adriano Favre che è il natore del catalogo della mostra non c'è perciò anche un personaggio più importante all'interno della Fondazione Giappella in quanto è responsabile di tutte le attività editoriali della Fondazione. La Fondazione che tra l'altro troverete all'interno della vostra borsetta oltre al catalogo dei nostri materiali significativi dell'esposizione che noi abbiamo di inaugurare oggi troverete un magazzino che è una delle più lezioni editoriali che possano esistere anche se molto in Italia. Io sono arrivata da tantissimo tempo, nei 20 anni non lo dicevo più. Ti chiederò di avere nuovamente il magazzino dell'azienda tua perché realmente ha la sua valenza. Grazie, passo la parola a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a me la canzone a mano per il tuo coroce. Grazie a mano, l'incredibile museo, l'importantissimo museo della St. Napoli. È un grande orgoglio di presentare questa nostra borsetta e grazie a Paolo Giulio perché grazie a Luiz oggi il mondo che non c'era. Grande emozione per me è che la cittadinanza che è legata a me e a mia famiglia e quindi sono molto contento di essere borsi che siamo finissi di diventare un mondo sull'arte più colombiana. qui c'è la prima volta in città e quindi sicuramente l'emozione si fa ancora più più importante. Due parole sulla fondazione. La fondazione nasce poco più di una mafatti, è veramente una mafatti, è un'attività. In realtà è l'evoluzione, come vorrebbe dire, di 40 anni di studi, di passioni, di altri, di quello che ha dato, tu dicevi che è un'associazione che ha promosso più di 100 centri di terapieologiche e valutologiche in giro per il mondo, in collaborazione con l'università, con centri di studi e comuni, con i grandi professori. Oggi però presentiamo una mostra sull'arte più colombiana, il mondo di concella, che vuole raccontare la storia delle culture di un altro mondo, mondo che è vissuto parallelamente a noi senza manca si conosce per anni, e da qui finito, da qui finito. L'ultimo canto è una bellante cultura, penso che il gara, la quale c'è da Bel Messico come se c'è, dopo Cristo devono avere 200 milanità, quindi un'organizzazione incredibile. E da lì, dopo appunto, sbagliate decenni di collezione, arriviamo a questa macronia. Abbiamo avuto il privilegio, e da qui questo è il motivo principale, perché andiamo a questa mostra, che abbiamo avuto già facendo l'interferenza, è il legame, che è un figlio, di collezione, che nasce appunto dal privilegio di aver vissuto grandi in mezzo a tutti i fascinosi, i primissimi oggetti, ed è sorto in mezzo in sulle responsabilità, verso questi reperti, questo proprio mondo culturale, che non poteva chiaramente rimanere in ambito privato, in ambito chiuso, ma doveva essere reso fruibile al maggior numero di persone, ed è qui appunto questa mostra. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.